buongiorno da btv news oggi 2 settembre santa elpidio abate il primo sabato di settembre che quest'anno canna il punto 2 si celebra la giornata mondiale della barba il world birthday dedicato a tutti coloro che scelgono di valorizzare questo fondamentale dettaglio del viso maschile ricco di fascino in grado di mettere in evidenza la personalità un giorno speciale che rappresenta l'occasione perfetta per dedicare alcune attenzioni in più ai vari pizzetti barbe incolte baffi scoprendo i segreti per prendersene cura tutto l'anno se da un lato è importante curare la pelle del viso fin dalla giovane età dall'altro lato è fondamentale migliorare l'aspetto della barba proprio quando inizi a imbiancare e ha tutte le potenzialità per diventare un punto di forza non tutti sanno ad esempio che la barba dovrebbe ricevere le stesse cure riservate ai capelli caratterizzate da lavaggi regolari e dall'uso di prodotti ad hoc da declinare in base alle esigenze personali grazie 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 grazie